Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche adesso state pensando. Lascio la parola a Stefano Maggiore, anche lui è uno dei nostri sponsor e ci chiacchiererà di questa cosa. Grazie mille. Lavorare con te è sempre assurdo il male, perché se stiamo più di 5 minuti insieme nascono una sequenza di stronzate incredibili. È fantastica questa cosa, non so se sia positiva o negativa, ha tanto cuore. Allora, io sono Stefano Maggiore e sono il cofondatore di Antrim, che è una società che si occupa di design di servizi e di sviluppo, prevalentemente in ambiente enterprise. I nostri clienti sono quasi tutte banche e assicurazioni. Comunque lavoriamo in quell'ottica. Come diceva Carlo prima, il talk doveva farlo una mia collega e ci tenevo particolarmente che lo facesse lei. Purtroppo si è ammalata e quindi mi ha lasciato questa patata bollente in mano per quindi finire di preparare la presentazione ieri sera e raccontarvela. Sono anche il cofondatore di un'altra società che si occupa di tutte altre cose. Si chiama Freak & Chic, facciamo fondamentalmente entertainment. Sono anche produttore musicale, eccetera, ma questa è tutta un'altra storia. Sono qua oggi per raccontarvi quella che è stata un'esperienza che abbiamo avuto da un nostro cliente, che è stata molto interessante, dal mio punto di vista molto bella e ci ha insegnato molto e ci ha permesso di capire, mi ha permesso di capire esattamente cosa poteva dire la sostenibilità in un ambiente molto classico. Il nostro cliente è una banca e sono quegli ambienti classici, un IT bancario, sono quei classici ambienti che poco pensano a un certo tipo di lavori, a un certo tipo di modalità, di processi con cui affrontare le cose. Invece siamo riusciti a capire e a testare che il design sostenibile è una vera opportunità che si può avere per questi tipi di clienti. Quindi le aziende possono trovare delle nuove soluzioni che vanno incontro alle aspettative dei propri utenti e loro stesse ci guadagnano lavorando in una certa maniera. Qual è il caso di studio? Fondamentalmente questa banca ci ha chiamati e ci ha detto guardate abbiamo una stanza vuota, ho detto bene, fantastico, entrateci dentro e fate cose. Che cazzo vuol dire fate cose? In bolognese diciamo so c'è chi sborata, però eravamo un po' basiti da questa situazione. Fate cose nel senso che mettetevi a testare, ideare tecnologie, capire quali possono essere le prossime tecnologie per costruirci sopra dei servizi che siano effettivamente di valore usabili per i nostri utenti. Ovviamente una cosa del genere che viene da una banca è assurdo perché non succede mai. Poi sto parlando tra l'altro di un IT bancario, quindi non del marketing e non del business. Sono cose che poi vengono presentate al marketing e al business per fornire degli spunti per proseguire con i lavori. Quindi con molta fantasia la stanza è stata chiamata innovation room, vabbè questa è una stanza banalotta come situazione, ed era l'ambiente in cui volevamo testare delle nuove tecnologie che non sono ancora impiegate in ambito enterprise, oppure riproporre tecnologie che sono già consolidate, che sono già state utilizzate in altri ambiti e riproporle in un ambiente bancario. Quindi cambiandone il paradigma di utilizzo. Questo è abbastanza interessante perché è qui il punto della sostenibilità su cui voglio andare a parare. Provare a riutilizzare una serie di tecnologie che l'utente già conosce ti permette di effettuare un processo sostenibile sia a livello di costi per l'enterprise che ha deciso di lavorare in una certa maniera, ma a livello di design riesci a ridurre la barriera in ingresso che un utente può avere su una tecnologia e quindi ti puoi effettivamente concentrare su quello che è il design del servizio e l'esperienza che gli vuoi fare. Quindi all'interno di questa stanza abbiamo poi costruito una serie di storie che servivano proprio per utilizzare le tecnologie che avevamo deciso di scegliere, riprogettarne l'esperienza, renderla più efficace. Quello che abbiamo fatto non è stato quindi soltanto creare, scegliere le tecnologie, ovviamente insieme al team della banca, scegliere le tecnologie, crearci sopra delle storie che potessero avere valore, ma ci siamo anche occupati di creare il design della stanza. Avevamo una stanza vuota, figata, cosa ci facciamo? Qualsiasi cosa. Quindi abbiamo chiamato degli architetti, degli interior designer e dei light designer e abbiamo costruito un ambiente veramente asettico, fatto tutto di legno, in modo da dare più importanza alle tecnologie. Quindi abbiamo creato un ambiente lo-fi che permettesse di dare importanza alle cose, alle storie che vi vengono raccontate al suo interno. Sto pulsante. Ok. Le tecnologie utilizzate. Qui è il momento di down, nel senso non aspettatevi il wow, dobbiamo utilizzare le tecnologie con i led, i colori, il suono, la supercazzola, la sonda anale di Cartman, no, niente di tutto questo. Abbiamo utilizzato le cose più semplici che potevamo trovare e che ovviamente sono banali, ma è poi come cerchi di riutilizzarle che diventa un valore. Abbiamo utilizzato ovviamente il Kinect di Microsoft, grande figata che tutti vogliono utilizzare. Pensate, allora per noi, per voi che siamo qua, tutte queste cose sono già viste, già fatte, banali, utilizzate, eccetera. Pensate ad un ambiente bancario che hanno uno sportello bancario e il loro modello di business è l'utente viene in filiale, depositi i soldi o li prende fine. Quindi questo per loro è stato un grosso step. Poi non vuol dire che tutte queste tecnologie sono state poi messe in produzione, sono alcune. È un ambiente che serve proprio per testare l'effettiva fattibilità di una serie di servizi e di cose che si possono o non si possono fare. Nel caso del Kinect di Microsoft, il cambio di paradigma l'abbiamo utilizzato per aiutare l'utente a costruire il proprio mutuo personalizzato alla minority report. Quanto sarà divertente fare un mutuo o zero? Quanto è divertente farlo spostando delle cose un po' di più, tanto alla fine i soldi li vai comunque a spendere, ma almeno ti sei divertito nello spenderli. Abbiamo utilizzato la cardboard, abbiamo permesso di fare un viaggio virtuale all'interno della filiale, pensando anche a quegli utenti che non possono fisicamente andare in filiale, valutare le flotte aziendali senza andare direttamente in concessionaria o navigare in 3D all'interno degli edifici proposti da real estate della banca stessa. Abbiamo utilizzato il famoso flick, il one button, che adesso Amazon, perché sono il male, ci permette di ordinare i prodotti e sarà la mia fine. Quindi ha tre possibilazioni, click, double click e hold, e ad ogni azione abbiamo fatto corrispondere una storia o una richiesta di videochiamata verso un consulente, una richiesta di informativi istantanea, oppure la possibilità di effettuare una serie di operazioni, dispositive o meno. Abbiamo fatto l'esempio della vecchia signora che vuole ricaricare la carta al nipote, invece di andare in banca, invece di aprire un sito, invece di usare un'app, eccetera. Spinge un pulsante e la carta viene ricaricata. O il classico studente fuori sede a Londra che ha bisogno dei soldi di papà e richiede al buon papà di pagare l'affitto e poi invece vanno in droga, come sappiamo tutti benissimo. Quindi tramite i processi di UX design abbiamo concepito una serie di servizi che utilizzassero ed interagissero con le tecnologie che abbiamo individuato. Poi siamo arrivati anche alla fase di prototipazione e realizzazione. Alcune di queste cose poi sono andate in produzione. Per esempio l'anno scorso abbiamo utilizzato i beacon e adesso in produzione e in test un'applicazione per le code all'interno degli sportelli bancari che si interfaccia con il sistema di code degli, come si chiamano, i buzzer, quelli che suonano quando tocca a te, fondamentalmente, quando vai a prendere da mangiare, eccetera. E abbiamo riprogettato quindi lo spazio, il design degli interni, i materiali in modo da costruire comunque un ambiente teatrale che consentisse di dimostrare quello che avevamo in mente ai vari personaggi, manager del marketing, business, eccetera, che venivano a vedere quello che era stato fatto. Ora qua qualche foto dell'interno della stanza, giusto per farvi vedere cosa è stato. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di cambiare il pavimento, quindi è bruttissimo, io avevo proposto legno, o comunque un finto perché, ma mi hanno lasciato le piastrellone di cacca. Abbiamo ricreato quest'anno, perché è il secondo anno che la facciamo, un ambiente casalingo, quindi divano, casa, in modo da poter fare cose verso la filiale, ma comodamente da casa. Abbiamo ricreato l'ambiente della filiale con un tavolo per la consulenza, eccetera, riconoscimento visivo per chi si loggava. Quello è un proiettore, su quello schermo viene proiettato un filmato, uno stupidissimo filmato di persone che passano al di fuori di un vetro, come se si fosse effettivamente all'interno della filiale. Poi adesso qua non si vede il gioco di luci che è stato fatto, però ogni scena, ogni parte teatrale, aveva il suo light design apposta per dare importanza ai vari elementi. Quindi, cosa abbiamo imparato noi, io, fondamentalmente, che in un cliente di questo tipo, così old style, così classico, così irregimentato, è possibile, attaccandolo dall'interno, rinnovare l'esperienza che si può avere in filiale. Vuol dire, le rivoluzioni si possono fare in tanti modi, ma attaccare il sistema dall'interno molto spesso è la cosa che funziona. E poter riutilizzare prodotti e servizi che hanno successo, magari in altri contesti, riadattandoli a quello che è il contesto bancario, è una soluzione vincente per questo tipo di clienti. Si cerca quindi di migliorare l'esperienza e fare sì che le persone si possano sentire a loro agio, togliendo la barriera in ingresso che si ha nel riutilizzo di una tecnologia che già si conosce. Come dicevo prima, non tutte le esperienze si concretizzano in servizi, molto spesso ci servono per capire le eventuali potenzialità future, per fare un piano di quest'anno si può fare questa cosa, tra un anno è possibile fare quest'altra cosa, tra due anni è possibile fare un'altra cosa ancora. E quindi? Quindi abbiamo capito che è possibile, veramente applicabile, la sostenibilità sia nei principi, quindi riuso a livello di design, di atomi di progettazione, di elementi e soprattutto di tecnologie. E' possibile avere una sostenibilità nei processi, grazie a come li stai progettando, nei processi e nei flussi di lavoro, delle persone che fruiscono i servizi che hai cercato di creare. E un livello di sostenibilità soprattutto nella soluzione e nella sopravvivenza del futuro. Noi stiamo cercando di progettare cose che possono essere nuovamente decomposte e riutilizzate in futuro. Alcuni che rimangono soltamente dei concept, altri che entrano in produzione. Come dicevo prima, la possibilità di slegarsi da produttori hardware, quindi evitare tonnellate e tonnellate di consulenti che ti vengono in azienda, rimanere hardware independent, e riutilizzare e poter sostituire facilmente le tecnologie, è sicuramente un vantaggio e aumenta la sostenibilità dei processi, dei progetti e del design di servizi che stai andando a creare. Io ho già finito. Vi ringrazio per l'attenzione. Se avete una serie di domande sono qui, quelli sono i contatti, sia della mia società che i miei personali, Twitter e Instagram, perché faccio anche tante altre cose divertenti. Mi era venuta una battuta da fare, ma me la tengo. No, dillo, dillo, dillo. Il famoso talk interruptus. No, a parte gli scherzi. Stefano, si vergognava a dirlo, ma questa penso che sia la prima volta che tu faccio un talk in una conferenza. Io di solito suono sui palchi. Ecco, lui suona sui palchi, stavolta ha parlato, quindi insomma, intanto grazie del talk. Un commento che faccio prima, perché era uscito pure prima nel talk di Roberta, è questa cosa dell'impersonificazione, il fatto che tu, ne abbiamo già parlato al telefono, ti metta nella scena e provi direttamente l'esperienza, eccetera, eccetera. Questa cosa è sempre una cosa potente e pure in questa cosa l'avete fatto, secondo me, è molto, molto figa. Ti ringrazio. Più un commento che una domanda, ovviamente. L'anno prossimo continueremo, perché ci occuperemo anche l'anno prossimo e soprattutto dopo l'esperienza di questi due anni, perché ormai sono due anni che ci occupiamo ogni anno di cercare qualcosa di nuovo, la banca ha deciso di mettere del vero budget a disposizione dell'innovazione interna. Non è vero, stai mentendo. No, è vero, non sto scherzando. Non è una cazzata. No, è vero, stai mentendo. Grazie a tutti